Si dice spesso che una foto dice molto di più di un articolo. È il caso della copertina di Vita Trentina di questa settimana. Eccola l'ultima barriera. Così sarà la postazione nella quale i parenti potranno avvicinare finalmente gli ospiti delle case di riposo. Il nostro collega Augusto Goyo l'ha registrata insieme a Gianni Zotta in una RSA di Cadine, grazie alla disponibilità del direttore. Si tratta di una simulazione, già che le visite dovrebbero cominciare, ma come precisiamo non è ancora riapertura. Questo è il tema principale di Vita Trentina, che si occupa anche di maturità. E vi segneriamo la seconda copertina, che è questa. L'esperienza di fragilità messa in primo piano dalla rivista trimestrale Questi miei fratelli, in allegato, otto pagine, tutte da leggere. In questo caso la foto sembra datata di qualche anno e invece è solo questione di poche settimane. Buona lettura e buona settimana.